Si chiama Randall Kate Midkiff, è un uomo di 37 anni d'età. Avrebbe detto alla sua fidanzata che l'avrebbe sposata se le avrebbe consentito di andare a letto con la figlia. La donna però non avrebbe accettato la proposta e avrebbe denunciato l'uomo, per il quale sarebbero partite le manette ai polsi. Secondo quello che ci fanno sapere, infatti, quei diani dell'Inghilterra, la donna avrebbe contattato l'ufficio dello sceriffo di Washington a Mobile in Alabama. Ma Midkiff avrebbe continuato a mandare messaggi anche dopo che la donna avrebbe interrotto la relazione per colpa della devastante richiesta. L'uomo avrebbe continuato a insistere dicendole che avrebbero potuto sposarsi se avesse potuto andare a violentare il giovane due volte a settimana. Si erano conosciuti dopo che lui si sarebbe legato in casa della nonna per riparare un condizionatore. L'uomo avrebbe ammesso da subito di aver notato la ragazza a 14 anni e di aver intrecciato in relazione con la donna per arrivare alla minorenne. Vi ringrazio e un saluto caro dal vostro narratore italiano di YouTube Italia.